Musica Oggi siamo qui al canile comunale, siamo venuti a fare un sovralluogo per vedere i nostri amici a quattro zampe come stanno. Qui vicino a me c'è un box dove ci sono dei cuccioli, dei bastardini che hanno al massimo due anni, tutti sono curati e sono ovviamente sotto la protezione dei tanti volontari che vengono qui per dare una mano. Musica Com'è la situazione oggi del canile? La situazione del canile è oggi come oggi è un canile rifugio perché non abbiamo più il sanitario e abbiamo soltanto il ricovero dei cani, soltanto per modo di dire il ricovero dei cani ovviamente sempre trovati per strada, sempre randaggi. Significa che c'è un lavoro soprattutto dei volontari, dei tanti volontari che ogni giorno sono gli attori di questa situazione piuttosto pesante, drammatica perché sostenere tutto questo non è facile. L'aiuto ce lo danno sia fattivamente sul posto i volontari che si hanno delle turnazioni, quello che possono sono studenti, sono persone che lavorano e quindi vengono qui nelle loro giornate libere, nelle loro ore libere. Parliamo di un contributo di singoli cittadini? Esattamente, di singoli cittadini a livello personale. Chi vuole adottare un cane si può rivolgere all'associazione Amici del Cane, venire qua in canile o consultare la pagina Facebook, c'è anche un numero Rosaria che vuoi dare? Sì, il nostro numero è 0773 66 21 77 e risponde sempre la segreteria e potete fare tutte le domande che volete, è un po' uno sportello attivo.